Due giorni di manifestazioni pubbliche a Casal di Principe per ricordare Don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo del 1994 nella sua parrocchia. Una serie di appuntamenti che riguardano la figura del sacerdote già partiti da alcune settimane nelle scuole del territorio. A dar vita alla due giorni di iniziative una fitta collaborazione tra il comitato Don Peppe Diana, il coordinamento provinciale dell'Associazione Libera, la diocesi di Aversa, il comune di Casal di Principe e la Gesci. Diciamo che il weekend sarà uno dei momenti più importanti, una serie di incontri, manifestazioni, momenti di preghiera che ormai durante tutto l'anno fanno memoria di Don Peppe Diana, anche se nella settimana che si avvicina al 19 marzo ci si concentra in modo particolare proprio per ricordare l'anniversario dell'uccisione di Don Peppe Diana per mano della camorra. Tutti i movimenti, le associazioni, i cittadini comuni vengono qui per dare il loro atto di riconoscenza a Don Peppe Diana per quella testimonianza di vita che ci ha lasciato e in questa settimana si sente bisogno di ritrovarsi intorno a quell'altare dove Don Peppe Diana ha celebrato l'Eucaristia, dove nel Signore ha trovato la forza per annunciare la sua parola e dove grazie al suo impegno e alla sua parola c'è stata una svolta fondamentale per Casal di Principe, per queste terre, per questo territorio. Per Casal di Principe Don Peppe Diana ha rappresentato la vera anima di questo popolo, l'anima di un popolo generoso che desidera esprimere tutto se stesso nel meglio, perché Casal di Principe è anche ricco di tante persone di grande professionalità, di dedizione al lavoro. Sotto la schiavitù della camorra non riusciva ad esprimersi chiusa in un sistema e Don Peppe Diana ha avuto il coraggio di poter sperare un futuro diverso per questo popolo. Dunque Don Peppe Diana rappresenta per Casal di Principe il segno di una liberazione. Teleclub Italia trasmetterà domani in diretta a partire dalle 10.30 la Santa Messa celebrata presso la parrocchia San Nicola di Bari di Casal di Principe ed in settimana un'edizione speciale di Caffè con il Vescovo per parlare della figura di Don Peppe Diana.